Benvenuti al Monaco Yacht Show 2024, una delle manifestazioni nautiche internazionali più esclusive al mondo in quanto interamente dedicata al mondo dei super yacht. Questa edizione ospita oltre 560 espositori tra cantieri costruttori, charter, broker e naturalmente merceologia di extra lusso. Venite a scoprirlo con noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!